Andiamo da Jallov perché un tocco di spalla per il gol dell'1-0, poi un bel gol del 2-0, insomma è stata una bella serata per te. Sì, molto felice, però molto felice ancora per la squadra, l'atteggiamento molto bene, noi abbiamo meritato questa vittoria oggi, però speriamo, ho fatto bene bene e fare più quest'anno, l'anno corso soffre tanto, per quest'anno noi bisogna fare bene bene. Oggi la difesa del Pescara ti ha un po' agevolato in alcune giocate, soprattutto in occasione del gol del 2-1, hai fatto praticamente tutto da solo all'interno dell'area di rigore del Pescara. Sì, io ho visto Maestro tira primo, io ho fatto due tocchi, tre, però non fai velocissimo arrivato al difensore, io penso con la testa lui fare così, due tocchi subito, io tira in porta arrivato al momento, un gol. Sul primo gol che ci puoi dire? Una deviazione di Bettella o più il tocco di spalla tua? Sì, nel primo tempo ho toccato un po', però secondo me ho fatto in campo otto gol, però dopo finire la partita ho visto il mio telefono e tutti ho fatto due gol, è un complimento. Quanto sei stato vicino a gennaio l'anno scorso a vestire la maglia del Pescara, perché Pilonna ti voleva? Sì, ho visto così, io ho fatto il contratto qua. L'anno scorso quanto sei stato vicino a venire a Pescara? No, 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 io dietro loro io rimani qua, sì, io sono di Salerno, sì, io ho fatto il contratto qua, ho fatto quattro anni, io solo pensare a giocare a Salerno, sì, speriamo bene quest'anno. Vi aspettavate questo Pescara oggi, squadra che lo scorso anno ha fatto i play-off, oggi in difficoltà al cospetto della Salernitana? Sì, rispetto loro, la buona squadra, ho giocato bene, l'anno scorso ho giocato play-off, noi soffri tanto l'anno scorso, noi abbiamo bisogno di più, bisogno di fare di più, però ho giocato bene il campionato, però speriamo che continuiamo così. Grazie a tutti.